ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio nel quale disquisisco caoticamente disquisizioni caotiche è solitamente un format nel quale io disquisisco a riguardo di un punto che mi ha particolarmente triggerato che mi ha particolarmente acchiappato no che può essere dato dal mondo dell'orologeria in generale oppure dal dall'ambiente dalla community o come in questo caso dalle vostre domande che possono essere in grado di accendere la quella miccia che mi fa scattare la voglia di dire qualcosa di particolare no quindi le domande che mi avete posto sono qua ce le ho tutte belle stampate e non si può fare altro che proseguire a leggerle però prima di leggerle vi mostro l'orologio del giorno che è questo bellissimo brightling cronomat adesso sono il mio periodo cronomatiano è come si suol dire come dicevo c'è van gogh che c'è i suoi periodi io c'ho il periodo cronomatiano adesso cronomatiano con bracciale mattia neri cosa ne pensi del marchio formex domanda interessante formex è un brand svizzero che fa orologi swiss made veramente fatti bene veramente di qualità e veramente originali a livello estetico hanno anche dei brevetti sugli orologi la cassa che è ammortizzata una chiusura particolare no la regolazione fine brevettata e tra l'altro sono anche molto trasparenti nel loro sito web stanno lavorando bene secondo me è un gran bel marchio non ci ho mai messo le mani sopra devo essere sincero però da quello che ho visto no ognuno si fa un minimo di opinione da quello che ho visto mi sembrano fatti bene di qualità e veramente ben realizzati poi da lì a prenderli ce ne passa perché come tutti come tutti noi ci facciamo anche un pochino influenzare dal nome no dal marchio formex non è sconosciuto e pur lavorando bene ci devi spendere quei soldini che poi non costano nemmeno tantissimo non sono nemmeno esagerati come prezzo comunque belli formex mi piacciono alessandro bottari hamilton khaki field expedition che ne pensi ne farei mai una recensione grazie tante cosa ne penso l'ho detto un sacco di volte cosa ne penso è diciamo secondo me la nuova declinazione del khaki field no siamo sempre abituati a vedere quello da 38 mm il classico field watch da 40 da 42 quello di stile militare e l'expedition è un nuovo volto cioè quello dedicato all'esplorazione con la ghiera con la quale si può trovare i punti cardinali nord sud ovest in base al sole bello molto bello ce ne sono due versioni 37 41 io preferisco quella da 41 se si è adatta maggiormente al mio polso poi per lo stile così un po' selvaggio dall'avventura dell'orologio un 41 mm è meglio che un 37 poi se avete il polso la signorina allora va bene anche il 37 cioè non è che vi si può chiedere tanto no se siete si siete svantaggiati non è mica colpa mia danilo montinaro ciao davide non voglio avere una collezione di orologi ma solo uno di pregio spendendo massimo 2000 euro magari già scontato che stia bene in tutte le occasioni caro danilo 2000 euro scontato secondo me ci rientri qualche negozio te lo trovi il long spirit a me mi piace lungi spirit secondo me 100 metri impermeabilità corona vite quell'aspetto con quei numeri arabi che escono fuori dal quadrante certificato cost qualcosa c'è di bello qualità e ineccepibile cioè finiture tutto la luminescenza c'è anche la mia scienza una volta fatto una garetta tra orologi cazzo abbattuto anche e quelli i diver che ho in collezione quindi veramente secondo me lo spirit come orologio adatto tutte le situazioni al suo perché attorno al 2000 lo trovi direttamente marco zuccaro quali sono in carica manuale più comodi e più scomodi che hai provato domanda quanto strana cosa significa perché la comodità al polso non è che dipende dal fatto che uno sia carica manuale o carica automatica o al quarzo la comodità la da la fattura dell'orologio no forse tente di dire a caricare a mano l'orologio in questo caso devo dire che quello più scomodo da caricare secondo me e poi io l'ho fatto anche provare a un mio amico detto ma senti poi secondo te ti sbagli secondo me lo speed master omega speed master a caricarlo manualmente è scomodo faccio fatica con quella corona è abbastanza anche sodo come come resistenza è fatico rispetto ad altri orologi poi questo discorso non si può che riportare anche su di orologia a carica automatica no perché capita quasi sempre di dargli qualche giro di corona nel momento in cui ti trovi a indossarlo per la prima volta quindi la prova del 9 vale anche su quelli ad esempio lo spirit quando lo carichi manualmente se liscio liscio come l'olio con quella corona bella grande va che è un piacere nel mio villervetta va che è un piacere cioè l'unico scomodo che ho trovato per ora è lo speed master che ripeto è duro e faccio fatica non mi scivola la mano a volte da tanto faticoso che walter h amati armati riportare un vintage allo stato originale quando allo stato attuale è macchiato rovinato brutto eccetera bisogna per forza essere puristi nel lasciare i segni del tempo o ridargli una nuova vita con un restauro è cosa buona e giusta dipende cioè non esiste una regola una regola fissa a me piacciono gli orologi vissuti virati invecchiati anche rovinati mettiamola così ma entro un certo limite si deve comunque riuscire a leggere il marchio a capire dove sono gli indici leggere l'orario se è completamente distrutto completamente bianco quasi bianco no per dirlo quasi completamente grigio perché è fiorito completamente allora in quel senso in quel momento lì ha senso fare un restauro dell'orologio detto questo però io già all'inizio non comprerei un orologio rovinatissimo che non si legge lo scarto a priori quindi non mi pongo il problema perché tutti gli orologi che vado a mettere in collezione devono avere con un minimo standard perché non glielo faccio ristampare il quadrante quindi che sia originale che sia leggibile ma anche se rovinato ne ho presi ne avete visti con delle macchie non l'ho presi tranquillamente perché mi piace però se non si il problema non esiste cosa diversa è se dovesse capitarmi un lascito ok che è talmente rovinato da non leggersi allora anche quel caso lì non lo ristampo perché è un lascito a me non mi interessa che sia fiammante anzi me l'ha lasciato così e lo tengo così è un ricordo capito giampiero tiberti cosa ne pensi di ubot li ho rivalutati dopo l'ultimo viaggetto che abbiamo fatto in sede dove ho potuto appurare cosa c'è dietro le persone che ci sono dietro tutto il sistema che c'è io pensavo arrivassero pensavo potevo anche pensare che gli orologi arrivassero dentro gli scatoloni già fatti che non è cosa anormale cioè è plausibile è normale la maggior parte dei micro brand ubot non è un micro brand la maggior parte dei micro brand si fa fare gli orologi da una private label e gli arrivano già pronti fatti ci mettono l'idea il disegno tutto il resto arrivano già fatti poi invece loro ordinano le casse i componenti li modificano ci hanno la loro struttura il pian terreno che non mi aspettavo di vedere dove poi gli assemblano e fanno il controllo di qualità e secondo me tanta roba tra l'altro le casse le fanno fare in italia adesso non vuole dire una bagianata ma io penso proprio da aurum dove fa fare anche l'amico francesco calamai io credo che le facciano lì vabbè comunque li ho rivalutati poi a livello estetico non mi piacciono la maggior parte non mi piace qualcuno l'ho trovato è che che mi piace qualcuno l'ho trovato il lo stratos da 40 mm quello lì mi piace credo sia fuori produzione hai mai allora carmine casale hai mai recensito provato il laureato di girar pergo provato sì l'ho provato al polso però da 42 mm non l'ho mai recensito perché non ho la possibilità di averlo per le mani e non ho neppure l'idea di farmelo prestare da qualcuno anche perché al momento non lo so non conosco però perché non rientra nel nel mia chiappi a breve non so come spiegarmi il laureato è bello roggio mi piace sì l'ho provato al posto sta bene sì mi sta bene anche 42 lo vuoi comprare no non lo voglio comprare non mi interessa come come dicevo gli orologi con bracciale integrato mi hanno un pochino stufato sono fuori da quel periodo vango ghiano lì e poi tra l'altro ogni volta che io mi guardo questo brightling cronomat mi mi dà la sensazione di avere al polso un orologio con bracciale integrato no c'è le sue anse si tolgo ci si toglie il bracciale ci potrebbe mettere anche un cinturino eppure l'idea è quella di un bracciale integrato quindi sono abbastanza soddisfatto con questo con questo orologio qua tra l'altro ho anche venduto l'omega constellation che era uno di quelli con bracciale integrato quindi non mi interessa il laureato però sicuramente cosa gli vuoi dire calibro in house finiture di primordine storia a bizzeffe è un gran bello orologio quando vedo il polso degli altri gli faccio i complimenti diego prince palladino degli orologi spinnaker cosa ne pensi orologi spinnaker sono orologi commerciali economici nel senso che non è nemmeno micro brand perché spinnaker ho fatto un video dato la cercale cercate spinnaker nel canale lo trovate fa parte di un gruppo di un grande gruppo inglese inglese gli orologi li producono a hong kong però è inglese tra cui c'è anche aviotto per esempio mccabe che avevo fatto la recensione di un mccabe una volta quindi ha più marchi è una azienda strutturata con sede in inghilterra e fanno degli orologi simpatici dai sono economici la portata di tutti anche carini validi dai per quello che costano sono validi in qualche qualche anno fa su youtube c'era una un'invasione di spinnaker li mandavano a tutti per fare le recensioni e c'era veramente un over 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 talking non so come dire adesso sono un pochino scomparsi dal radar però sono validi costano poco poco più che giocattoli mettiamola così voglio esagerare teo di peppe quale tra gli orologi che non hai più in collezione ti manca di più e perché proprio il rado golden horse bravo teo di peppe un cognome un programma sì probabilmente il rado golden horse perché perché un bello orologino fatto bene con quelle sembianze da orologio sportivo elegante ripeto come il come l'acqua terra come quel quegli orologini lì 37 mm che al polso è un bijou con il suo bracciale a chicchi di riso lucido è veramente bello me ne pendo l'ho dato via per prendere qualcos'altro non mi ricordo cosa me ne pento anche perché poi a un certo punto solo per finire no era un'edizione limitata a 1950 pezzi per ogni colore e i colori stanno finendo sono andati via quasi tutti in italia attenzione all'estero non è che piacciono tanto gli orologi piccoli è sempre il solito discorso invece in italia sono andati quindi se un giorno lo volessi poi riprendere dovrei trovarlo sul secondo polso sul mercato dell'usato angelo tropia salve davide volendo acquistare lo hamilton ventura iconico della casa è audace meglio andare su automatico oppure accettare la tradizione elettrica dell'orologio e optare per il quarzo più sottile ma guarda in questo caso qua non è che sono così contrario all'orologio al quarzo no ha un senso un po come il tank ci sono certi certi modelli di orologio che ha senso prenderli al quarzo perché hanno sviluppato la loro storia il loro heritage in determinati periodi e che quindi possono anche essere presi al quarzo quali state probabilmente quella quarzo costa meno suppongono quindi risparmieresti anche qualcosa è più sottile e poi sì primi erano elettrici non erano al quarzo però volendo essere però volendo leggere da un'altra parte io ti posso anche dire ma al giorno d'oggi cos'è che ci interessa l'orogeria meccanica quindi hanno fatto la versione meccanica di questo orologio quella contemporanea vuoi avere la versione contemporanea perché se vuoi avere il vintage allora vai a comprare quello elettrico vintage è come quando uno vuole comprare il moon's watch l'omega speed master no è quello che è andato sulla luna quello che è andato sulla luna è quello là quello col 3 2 1 degli anni 50 60 non è questo qua questi qua sono l'evoluzione quindi non puoi dire voglio il vetro il vetro plexiglass perché sulla luna c'è andato col plexiglass sono altri orologi quindi scegli te però ripeto il quarto può anche andare bene sergio calin cosa ne pensi del micro brand italiano vicheria in particolare il vicheria calypso con il quadrante turquoise con indici che riprende un po il zodiac grazie per la risposta se è un micro brand che fa orologi abbastanza economici che secondo me a me non è che mi attirano più di tanto secondo me sono anche un po un po poveri di di finiture un pochino così anche il sito web per esempio abbastanza amatoriale quasi sono le immagini sgranate non è che sia che dà proprio la sensazione di andare a prendere qualcosa di qualità ecco poi se non mi sbaglio vicheria no non me lo ricordo bene gli ho visti in qualche fiera sicuramente per le mani non li ho mai avuti però non mi fanno impazzire non mi non mi colpiscono non mi esaltano diciamo che potrebbero essere anche dimenticabili per quanto ne so io giovanni rutigliano ciao davide cosa ne pensi del marchio nivada e cosa ne pensi del marchio nivada è un gran bel marchio ora la storia nasce di nivada nasce all'inizio secolo praticamente nei primi anni venti poi per passare poi addirittura nel 1985 un gruppo sud coreano che facevano poi facevano solamente orologi al quarzo e nel 2000 ad un gruppo sud americano e lì anche lì facevano solamente orologi entry level tra l'altro mi sembra che in sud america qualche nivada swiss esiste ancora in commercio proprio a livello di entry level che non ha niente a che fare con nivada grand shane che da 2018 fa parte dell'ambiente che conosciamo che sono alla ribalta ottimi orologi vengono realizzati in svizzera sicuramente sono entry level diciamo 800 800 euro costano un pochino più di entry level però incassano calibri di fornitura soprod ottimi calibri ho fatto anche un video sui soprod con il newton e il soprod p024 nivada incassa per la maggior parte p024 che diciamo che è una un orologio che riprende l'architettura dell'eta 28 24 sono ottimi orologi l'antarctic lì è bello mi piace quello con il quadrante tipo pacman anche no magari no molto particolare anche lì si va su su delle scelte estetiche che magari qualche estruso può preferire ma non fa per me santo gilberti cosa ne pensi dello jean presence e lo jean presence è uno di quelle collezioni del don jean che rimangono dimenticate ripeto c'è l'elegance che è un'altra collezione carina da 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 vedere io l'ho sempre tenuti in considerazione ho sempre studiati i presence e gli elegance e il record che sono orologi veramente proprio standard quelli che ti aspetteresti da lo jean semplici con il quadrante pulito bracciale alcuni hanno anche bracciale bellissimo a chicchi di riso lucido sono belli orologini a me piacciono dario d'ambra lamborghini spider o la gamma lamborghini sono orologi di qualità e non lo so se sono orologi di qualità ora questo lamborghini spider che dici te è veramente un cronografone al quarzo che costa più di mille euro veramente brutto è veramente brutto cioè non lo so cioè poi poi il resto della gamma lì degli orologi lamborghini in casa anche se l'intest v200 quindi saranno fatti bene non conosco cosa c'è dietro e capito magari ecco anche in questo caso una visita toglierebbe ogni dubbio ma costano 2000 3000 euro orologi lamborghini tonino lamborghini secondo me sono dimenticabili a questo punto e poi bisognerebbe approfondire un po però mi sembra che stefano carboni come nata l'idea della rubrica i vostri orologi è nata quando qualche anno fa ancora la mia community ci incontravamo su una chat di te di whatsapp e c'era l'amministratore che mi ha suggerito di farmi mandare dei video delle collezioni ho iniziato lì ho scritto sulla chat mandatemi i video delle collezioni primi tre me le hanno mandati ho potuto fare il video e poi da lì in poi la cosa è andata in automatico crescendo fino a poi a modificare la piano piano con varie modifiche che l'hanno resa quella che è oggi ho due mesi di ritardo quindi ho ancora un centinaio di video da guardare se non sono 50 cento sono 80 quindi ha preso il volo questa rubrica non è che questo format io spesso vedo che è difficile iniziare una rubrica nuova no inizia la rubrica dice facciamolo così e poi dopo si arena subito perché manca la risposta da parte del pubblico che non partecipa in questo caso è il pubblico che partecipa che rende la che è la forza di questa rubrica ok la benzina che alimenta il tutto e quindi sono fortunato anche in questo francesco paolo garofalo mi consigli un bel lockman non esiste un bel lockman massimo lavarino che ne pensi di venezianico gonfia uno dietro l'altro e cosa ne pensi di venezianico è un marchio che non fa per me non mi piace non mi piace il marketing non mi piace l'azienda non mi piace le persone che sono dietro e non mi piacciono come si comportano queste persone quindi anche se gli orologi sono buoni sono fatti bene sicuramente per me non contano non ritengo in considerazione gianni rodomonti cosa ne pensi di memphis bell ecco memphis bell memphis bell è un bel marchio un bel marchio ora esteticamente parlando non è che rientrano tanto nei miei gusti un po come u boat hanno un loro la loro identità questi orologi anche loro audaci un pochino militari un pochino retro nostalgici mettiamola così poi ci sono certi certi certe uscite certi modelli che invece sono più belli anche per me cioè per me che ho i gusti veramente terra terra no il mio amico karamaschi si è preso lo stingray antartide bianco non mi sembra quella ghiera arancione me l'ha portato qua proprio qua era seduto qua io ero seduto lì a far vedere perché lui quando prende un orologio me lo porta a far vedere viene a scoccare un caffè e sono rimasto sorpreso sbalordito dalla qualità di costruzione di questo orologio di come fatto bene proprio fatto bene le finiture lo spessore la robustezza il bracciale tutto fatto bene veramente tanta roba quindi se in questo orologio era tutto fatto bene così bello poco solido presumo anche sugli altri no anche se non mi piacciono però anche gli altri fabio federici se ciao davide nei prossimi video potresti approfondire la situazione di oisa 1937 che futuro potrebbe avere grazie e non lo so non è che sono tanto dentro questa cosa qua per chi non sapesse oisa è un'azienda italiana che fa calibri che realizza calibri di architettura proprietaria loro era presente negli anni 50 poi scomparsa e il nipote del fondatore il buon domenico morezzi ha deciso di rimettere su da zero e non è cosa facile in piemonte questa azienda che realizza calibri però siccome avevano bisogno di fondi per andare avanti si sono rivolti al hoc ma anche ci ha messo il cappello sopra è diventata diciamo proprietaria non so se è proprietaria prendetela con le molle questa o entrata nel capitale come maggioranza insomma fa parte di lockman e poi da quello che so domenico morezzi non contento della situazione se ne è andato quindi ha abbandonato la sua creatura da quello che so è delle voci di corridoio quindi è tutto è tutto così potrebbe anche essere rientrato non lo so ha abbandonato la sua creatura lo ha scritto in un forum ma ecco ora me lo ricordo lui stesso l'ha scritto in un forum che voleva fare qualcos'altro che andava a fare qualcos'altro a realizzare qualcosa di nuovo poi non so se la polemica è rientrata però in questo momento oisa è sotto l'ala protettrice di lockman e vediamo cosa succede è il greco boderi si sta imponendo sul mercato è cinese ma non lo nasconde e non sempre quel che è cinese e paccottiglia per l'amor di cielo ne parlano bene specie per rapporto qualità prezzo e varietà titanio bronzo con calibri a 28 mila 800 alternanze ora quadranti salmone a prezzi inarrivabili che ne pensi non me ne frega niente cioè non mi interessano questi marchi che fanno orologi senza che dietro ci sia qualcosa di concreto ecco ora io sinceramente poi dopo lo so che magari faccio anche la figuretta si scopre che boderi perché non l'ho studiata boderi il cane mi ha mangiato gli appunti non l'ho studiata però io la paragono un pochino a quegli altri marchi che sono stati messi in piedi che sono uno la copia dell'altro che si scambiano no pagani design addis dive cadiz ne sono sono la stessa roba cioè che presumono quindi lo presumo è così e quindi fanno orologi copie di altri orologi e poi dietro ci può essere tutta anche quella quel mercato dedicato a e fake perché ho già ho dimostrato in un video che per esempio corgio metteva in vendita senza essersene accorti su amazon la copia del tudor black bay con la corona marchiata black tudor quindi poi l'han tolta chiaro ha visto il video l'han tolta quindi boderi a me non mi interessa un marchietto così che non conosco non so c'è chi c'è dietro a me non è di mio interesse non mi interessa rapporto qualità prezzo titanio bronzo calibri a 28 mila 800 alternanza non mi interessa ci deve essere qualcosa dietro no anche come per un micro brand orologica la mai dietro so chi c'è ubo dietro ho visto chi c'è prezzo anche memphis bell so chi c'è le persone lì che sono dietro ma anche il micro brand che nasce oggi ci sarà qualcuno dietro che fa qualcosa che si lancia per spargere la sua idea di orologio ma qua io non sapendo chi c'è chi non c'è io li lascio da parte non mi interessa boderi non mi interessa antonio di marco è giusto pagare un orologio di marca con movimento di fornitura gli stessi soldi di uno con movimento in house sì è giusto è giusto è giusto ad esempio questo questo bright in cronomat gmt ha un movimento di fornitura è un età 28 93 un sellit equivalente addirittura non lo so costa 5.900 di listino 5.900 prendiamo un orologio con calibro in house un secco un secco è un calibro di proprietario no quanto c'è 1.500 è giusto pagare questo 5.900 e 1.500 un secco è un secco lì per me sì per me sì io prendo anzi il brightening in cronomat che il secco 1.500 ad esempio qualche problematica oppure un altro un altro esempio può essere un zin un zin con calibro di di fornitura quanto costa 2.000 euro quanto costa 2.000 mi prendi ti prendi qualcosa che un orient un orient al calibro di di manifattura preferisco prendere zin con calibro di fornitura cioè non è non è quello non è solamente il calibro l'orologio ragazzi è tutto quello che c'è intorno anche no anche il marchio lo dico spesso cioè uno vuole un brightening è inutile vuoi brightening non è che vado a scegliere un altro orologio perché c'ha le caratteristiche tecniche migliori magari di quel brightening lì no ma se io voglio un brightening mi compro un brightening costi quello che costi se voglio un omega mi compro un omega costi quel che costi anche se magari c'è nomos che fa orologi alla metà prezzo ma di qualità comparabile no ma io voglio l'omega posso voler l'omega luca vacante escludendo truffe cloni frankenstein che sarebbe franken watch perché frankenstein è un'altra roba secondo te perché su catawiki ci sono così tanti orologi anche di fascia alta messi all'asta dalla turchia il mercato turco e così florido ma che ne so questa qua non so rispondere io perché ci sono tanti orologi messi e non lo so saranno bravi a fare gli accrocchioni e cosa vuoi che ti dico saranno bravi a fare gli accrocchioni perché in effetti rischio è quello lì oppure c'hanno un sacco di orologi secondo polso ma non lo so io piero sabella oris 65 validi nella fascia di prezzo in cui si trovano grazie mille sono validi si oris diver 65 io ce l'ho la fascia di prezzo in cui si trovano anche qui anche questo qua anche l'oris diver 65 ha un bel calbrino di fornitura un sell it sv 200 figurati costerà 2000 euro adesso mi sembra non lo so costerà 2000 euro se uno vuole l'oris diver 65 deve spendere quei soldi lì cioè non è che mi metto a fare il calcolo la fascia di prezzo qual è il migliore questa fascia di prezzo prendo quello migliore rapporto qualità prezzo non stiamo a parlare di roba in cui serve la qualità prezzo cioè se io voglio un orologio un lamborghini come detto prima te vuoi un lamborghini che costa 4000 euro e vada l'olino ciao davide che ne pensi del king seiko spb 291 eccolo qua king seiko essere quello col quadrante azzurrino no spb 209 bello sono tutti belli king seiko anche sto qua ecco all'amico di prima che chiedeva un orologio intorno ai 2000 euro no da tutti i giorni cioè il king seiko anche insieme allo j spirit è perfetto il king seiko gran bello orologio uno di quelli che mi piacerebbe avere l'unica cosa che mi lascia perplesso come al solito è il calibro del 6r no il 6r è che le specifiche più 25 meno 15 secondi ora no io se io trovo dichiarano per quella quel range lì ma se spedo 2000 euro ma me lo puoi dichiarare fai uno sforzino e dichiaramelo un po di meno non ti dico che devi certificarmelo in qualche modo ma dichiaramelo un pochino meglio no facciamo facciamo più bella figura almeno no e te lo do slancato così e te dici ma non siete in grado di far dichiarare un pochino un pochino meno non siete in grado sicuramente sì perché non lo fate perché volete stare così larghi a quasi parità di prezzo lo spirit è certificato cost ora di quello che vuoi di quello che vuoi il mio orologio è preciso come un orologio svizzero capito poi magari ho fatto la prova anche il secco sono precisi non è che scarta più 25 meno 15 ma il fatto che me li dichiari che ti mi dici o io te lo do per così e ti dico ma perché non sei in grado di farlo meglio marco bucci ultima ciao davide cosa ne pensi del tudor ranger o il tudor ranger è quello che c'è la sfera delle ore a forma di fallo se non mi sbaglio è quello lì è un simpatico orologio quando è uscito mi sono rimasto così no perché c'è un po di reminescenze strizza l'occhiolino ma allontana non è che una copia allora rolex explorer e quindi sono rimasto anche un pochino cavolo bello bellino mi piace sì c'è anche fatto un pensierino volendo poi però il fatto di spendere così tanti soldi in un tudor che come ripeto è secondo marchio di rolex mi spinge ad andare dall'altra parte capito cosa voglio dire se qua c'è un rolex e poi il suo figli figliastro è tudor con quei soldi lì ci posso prendere che sono un bright link o un omeghino uno zenith o anche un tagoyer vado anzi di là vado completamente dal lato opposto anziché prendere qualcosa che mi penso la sotto a rolex come dire noi siamo la serie b di rolex è tutto lì è un mio bias mentale sono sono solo baccato non fate mai una colpa però bello cioè il fatto che avessi pensato anche di farci un pensierino la dice tutta sul fatto di quanto mi piace un bello orologio un bello orologio però non se ne vede tanti in giro anche nelle collezioni degli amici da casa non c'è mai il tudor ranger avrà avuto successo non avrà avuto successo solamente il tempo ce lo dirà buon ragazzi mi sembra di aver detto tutto io vi ringrazio per essere arrivati fino qua vi ricordo gli appuntamenti fisici che sono come sempre quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube la Grazie a tutti